Salve, eccoci dunque giunti alla nostra nona lezione di questo corso. Il tema di questa nona lezione è particolarmente impegnativo perché è un tema cruciale della riflessione sociologica in quanto finalmente al di là e oltre le considerazioni che qualcuno potrebbe anche chiamare divagazioni metodologiche entra dentro, entra direi ad occuparsi e a investire la polpa, la sostanza della società. La volta scorsa abbiamo parlato del gruppo, i vari gruppi e addirittura qualche sociologo rispettabile nordamericano a suo tempo aveva proposto che il nome di sociologia fosse mutato in quello di gruppologia perché la scienza si riteneva della società e in fondo la scienza che studia il nodo, la realtà germinale di ogni società, vuol dire il gruppo, il gruppo umano. Devo dire che questa idea è stata giustamente rifiutata perché il gruppo, il gruppo umano, i vari gruppi sono realtà troppo labili, occasionali, non si prestano veramente allo studio della società perché mancano di quella stabilità essenziale che è necessaria per studiare un dato oggetto. Il gruppo è troppo mobile, infatti abbiamo parlato di gruppi primari a faccia a faccia, ma anche i gruppi secondari che sono quelli nei quali i membri non hanno un rapporto diretto ma passano attraverso un diaframma, cioè una sorta di organizzazione burocratica, ma anche i gruppi secondari e poi naturalmente gli altri gruppi aperti, chiusi, pubblici, segreti e così via sono ancora dotati, caratterizzati da una labilità che non consente uno studio prolungato e fondato su di essi per capire una società. E tuttavia bisognerebbe rendersi conto come mai quella proposta è stata fatta, è stata fatta non a caso da un sociologo nordamericano perché? Ma perché proprio la società degli Stati Uniti, la società americana, è una società priva di passato storico rispetto a quella europea, per esempio priva, tanto per parlare chiaro, della grande eredità medievale, quindi priva della esperienza del feudalesimo che era una grande esperienza storica medievale però caratterizzata da una serie di livelli che in qualche modo partivano dal grande signore feudatario e poi attraverso i suoi rappresentanti i vassalli e queste a loro volta attraverso i loro valvassori e giugiu fino ai valvassini costituivano l'insieme dell'impalcatura sociale. Il mondo americano, gli Stati Uniti sono una grande civiltà che non ha in questo senso un antefatto storico paragonabile a quello dell'Europa. È una società che nasce democratica, nasce sulla base della famosa costituzione approvata dai tredici stati fondatori a Filadelfia e nasce come una società aperta, una società in cui non ci sono livelli e differenziazioni storiche consolidate, ma ci sono al contrario soltanto i gruppi in un loro turbinoso evolvere. Infatti ancora oggi la società americana, già lo diceva però Alexis de Tocqueville nella famosa opera della democrazia in America, cioè intorno alla democrazia in America. Già Tocqueville, questo aristocratico, diplomatico, uomo politico francese, notava come fin dalle origini la società americana era molto aperta e quindi portata ad essere una società di massa appiattita sullo stesso piano in cui si poneva il problema, che Tocqueville certamente ha avuto il grande merito di sottolineare, si poneva il problema del conformismo, vale a dire il problema del come salvare la, diciamo, originalità. C'è persino l'eccentricità del pensiero individuale, non solo, ma notava Tocqueville che c'era molta attenzione, diciamo, all'opinione pubblica, perché? Ma perché in una società che dilaga in senso orizzontale è fondamentale essere, come dire, ritenuti persone di buona fede, ritenuti persone che in fondo tengono fede ai propri impegni, questo era soprattutto vero per il West, la grande esperienza della frontiera, quando non c'era né ufficio anagrafico, spesso non c'erano neppure gli uffici giudiziari, al più c'era uno sceriffo, vero? Un rappresentante delle forze di polizia, ma non sempre in grado di tenere l'ordine e allora la stretta di mano era fondamentale e purtroppo ciò che era anche fondamentale era naturalmente la pistola carica, vero? Che si portava sempre al fianco, pronta, vero? A sparare, secondo la legge del Wendt, il farsi giustizia da sé, ma non solo, c'è anche questo senso, diciamo, negli Stati Uniti di essere dei joiners, cioè di partecipare a qualunque situazione ci sia, si forma un gruppo e la gente si iscrive a questo gruppo, ecco, allora si capisce perché in quella società la sociologia possa essere tramutata in gruppologia, ma in realtà come vedremo, neppure in quella società è possibile limitarsi allo studio dei gruppi, in realtà dal gruppo bisogna passare a considerare la struttura di classe, cioè una società è costituita dai suoi membri, donne e uomini, giovani, vecchi, bambini, benissimo, ma una società poi si articola in una serie, oltre che nei suoi gruppi, i gruppi stessi fanno parte di strutture, di partizioni, di suddivisioni sociali più ampie, più stabili, che noi chiamiamo classi, sono le classi sociali. Dal gruppo quindi occorre passare alla classe e in effetti ogni società, qui si dice giustamente, mediamente sviluppata, evidentemente non una società, voglio dire, primitiva, per esempio una società fra gli indios amazzonici, ma anche se, anche fra i popoli, i gruppi umani cosiddetti primitivi, anche fra di loro c'è sempre, in realtà, o lo stregone o il sacerdote, in sostanza c'è sempre una autorità in qualche modo, tuttavia si tratta di formazioni sociali così, direi, elementari dal punto di vista proprio tecnico, per cui ogni posizione è intercambiabile con altri, quindi evidentemente non c'è una suddivisione particolarmente spinta, ma ogni società mediamente sviluppata si suddivide, a seconda della divisione del lavoro, in ceti, strati, classi. Noi stamani vorremmo soprattutto occuparci del concetto di classe e io proporrei di partire dal linguaggio, dal linguaggio quotidiano, perché noi certi autori, scrittori e scrittrici, scrittrici perché a parte Omero c'è anche la poetessa greca Saffo e così via, tutte le letterature, come mai noi consideriamo certi autori, certi scrittori, certe scrittrici come autori classici? Che cosa vuol dire questo aggettivo classico? Ma la prima spiegazione sarebbe che sono autori che hanno classe, ma cosa vuol dire che hanno classe? Sono autori che si occupano di temi e hanno scritto opere che vanno al di là del loro ambito storico, che hanno cioè una validità permanente per quasi tutte, almeno tendenzialmente le epoche storiche a venire, per cui noi oggi ancora leggiamo con interesse, forse gli studenti che sono obbligati a mandare i canti a memoria non con così grande interesse, però noi studiamo ancora oggi e leggiamo Omero, l'Ilioda, leggiamo i canti di Leopardi, straordinari, basti pensare all'infinito, leggiamo cioè ancora autori che appunto chiamiamo classici e quindi sono autori che hanno classe, ma cosa vuol dire anche per esempio parlare di quando si dice tizio ha una gran classe oppure quella, quella sì, quella è una signora di classe o addirittura un campione del gioco del pallone del football, quello addirittura, no per carità, così danno che se io vi eri per fare dei nomi che mi vengono a mettere, quello è addirittura un fuoriclasse. Primo punto da sottolineare, il concetto di classe presuppone e comporta un concetto e un criterio di eccellenza. Quindi la classe, quando si dice classe, struttura di classe, si dice anche, o in maniera implicita oppure in maniera esplicita, si dice anche che esiste un ordine sopra ordinato e una realtà sociale subordinata. C'è qualcuno che vale di più, altri che valgono di meno e questo è vero storicamente per tutte le società che noi conosciamo. Per esempio la società romana, certamente la società romana classica, antica, era dominata dal senato, infatti lo vediamo anche oggi nella città di Roma, SPQR, cioè Senatus Populusque Romanus. C'era il senato, quelli che erano chiamati gli ottimati, cioè la elite, la creme, la creme de la creme, cioè il vertice sociale, e poi si scendeva attraverso l'ordine equestre e poi l'ordine mercantile, giù giù fino alla plebe. Addirittura dagli ottimati si scendeva fino ai cosiddetti capite censi, cioè coloro, quei cittadini, per carità, cittadini come tutti gli altri, però censiti solo pro capite. E poi più avanti, anche nell'epoca moderna, si parlerà di proletari, cioè di cittadini che non hanno altre proprietà fuorché la propria prole. Per questo sono proletari. E poi più avanti nell'evoluzione della società capitalistico borghese arriviamo anche ai sottoproletari, cioè a quella parte della cittadinanza che è totalmente emarginata, socialmente esclusa e che quindi non partecipa, anche se ne avrebbe il diritto, ma un diritto teorico non pratico, non partecipa alla vita della città in senso pieno. Quindi noi quando parliamo di classe noi diciamo che si è passati dal gruppo più o meno ristretto alla classe relativamente stabile. Vale a dire la classe sociale non indica più l'appartenenza a un gruppo labile, occasionale, variamente motivato, che può andare da un club sportivo a una determinazione di fascia d'età, giovani, meno giovani, così io. Quando io parlo di classe parlo di una appartenenza relativamente stabile. Che cosa significa? Qui abbiamo qualche difficoltà in effetti perché abbiamo vari significati del termine classe e quindi non dimentichiamo quanto abbiamo già cercato di stabilire perché questo è fondamentale. La classe per il solo fatto che indica una partizione della società rimanda a un criterio di eccellenza. C'è chi ha più classe, c'è una classe in senso pieno e c'è chi ne ha meno, meno classe. Questo mi sembra fondamentale. Ma non bisogna fare confusioni perché gli stessi elaboratori di questo concetto che sono per quanto riguarda l'epoca moderna sono soprattutto Carlo Marx e Federico Engels nel famoso manifesto del Partito Comunista pubblicato a Bruxelles nel 1848 iniziano questo documento che naturalmente ha fatto storia. Se mi è consentito con queste parole che non sono esattamente da prendersi alla lettera perché non sono illuminanti, anzi creano qualche confusione. Marx ed Engels aprono quindi il primo paragrafo del manifesto affermando la storia di tutte le società fin qui esistite è la storia di lotta delle classi. Libero e schiavo, patrizio e plebeo, signore e servo, maestro di bottega e giornaliero. In una parola concludono Marx e Engels oppressore e oppresso. E naturalmente con questo hanno coperto tutta la storia umana, ma hanno creato un'enorme confusione. Una sola osservazione è sufficiente per indicare come questa apertura che è una squillo di tromba, non è neppure un'affermazione sociologica, è un invito alla lotta. Oppressi contro oppressori, gli oppressori che schiacciano gli oppressi. Basterebbe ricordare che per esempio in questo catalogo, libero e schiavo, il rapporto fra il cittadino libero e lo schiavo al tempo di Aristotele e Platone in Grecia, ma anche a Roma al tempo di Cicerone era un rapporto di tipo ben diverso rispetto a quello che si è poi instaurato fra capitalista e lavoratore subordinato. Lo schiavo viveva nella casa del signore, del padrone. Non solo, lo schiavo particolarmente attento, diligente, intelligente, che dava prova ad intelligente, poteva venire dichiarato libero, cioè diventava un liberto, libertus. Ed è rimasto famoso Tirone, che era il liberto di Cicerone. E così Patrizio Plebeo, masto di botteghe giornaliero. Pensiamo, non so, pensiamo a Leonardo da Vinci, pensiamo a Michelangelo, agli inizi della loro carriera artistica, quando erano a Dozzina, come si diceva, cioè erano degli apprendisti nella bottega del Verrocchio, in sostanza non era un rapporto di subordinazione scientificamente organizzata. Quindi questo elenco non va bene, anzi possiamo dire, e questo è il mio secondo punto, dopo il primo che concerne il termine classe come indice di criterio di eccellenza, quindi indice di supraordinazione o di subordinazione. Il secondo punto che vorrei che fosse ritenuto bene, è che il concetto di classe in senso proprio è una creazione, è una elaborazione ed è anche una realtà sociale tipicamente moderna, tipica della società capitalistico borghese. Per cui si può dire che in questa società vale una grande suddivisione della società stessa, in due grandi campi determinati da che cosa? Dal diritto di proprietà privata, per cui si è in un campo sovrastante, a vario titolo evidentemente privilegiato, quando si è proprietari dei mezzi di produzione, mentre si fa parte di un altro campo sottostante, popolazione sottostante, popolazione lavoratrice, proletariato, sottoproletariato, quando non si possiedono i mezzi di produzione, ma si è posseduti da questi mezzi di produzione. Che cosa significa questo? Significa che la propria vita, gli orari di lavoro, l'ammontare del guadagno, stipendio, salario, oppure il pagamento per quindicina, che so io, dipendono non da me, non dal lavoro che faccio, ma dipendono in primo luogo da una volontà esterna, dalla volontà proprietaria dei mezzi di produzione, mentre io debbo in qualche modo accettare la disciplina del lavoro per procacciarmi i mezzi di sussistenza elementari. E quindi abbiamo in sostanza qui gli elementi che ci permettono di vedere i tre significati del termine di classe. Il primo, che è un significato puramente esterno, tassonomico, come si dice qui, classe come classificazione, statistica, è sempre il concetto di classe, ma è un concetto di classe molto vicino al concetto di gruppo, di cui abbiamo parlato nella lezione precedente. Vale a dire, io posso distinguere una popolazione, un universo quindi sociale, lo posso distinguere in base a che cosa? In base all'età, fasce d'età. Per esempio ci sono delle popolazioni in cui, e questo era il caso del Brasile fino a pochi anni fa, in cui la maggioranza della popolazione era al di sotto dei 25 anni, oppure ci sono delle popolazioni come quella italiana di oggi che tendono ad essere popolazioni anziane in cui la longevità e la scarsa natalità, evidentemente schiacciano questa popolazione e la spingono verso una età ormai, se non proprio anziana, molto matura. Oppure si possono anche fare delle altre classificazioni, una classificazione molto comune è quella per titoli di studio, calcolare quanti sono i laureati ogni cento, ogni mille abitanti in una data popolazione e misurare anche l'evasione dell'obbligo scolastico. Devo dire che il concetto di classe come classificazione statistica è un concetto utile, ma è un concetto, come dicono gli statistici, tassonomico, cioè quasi direi uno schedario che organizza i dati empirici, ma non è un concetto socialmente dirompente, non è un concetto politicamente acceso come quello normale di classe, quando diciamo classe, guardate che dire classe è quasi come dare uno squillo di tromba in sostanza, bisogna stare molto attenti, per noi sociologi è importante mantenere la massima freddezza. E passiamo allora al secondo significato del concetto di classe, vale a dire una classe, un concetto di classe che non è più semplicemente la descrizione esterna di certe qualità di una data popolazione, come può essere l'età, il titolo di studio, il luogo d'abitazione e così via, ma la classe è come comunanza di interessi materiali oggettivi, cioè accertabili, numericamente accertabili, quindi duri, non è più la simpatia per cui io faccio parte di un gruppo, di un altro gruppo, la casualità dell'accompagnarsi con gente che incontro, che se io al bar o al ristorante o al cinema, no, è qualche cosa diverso, qui abbiamo una comunanza di interessi materiali e per cui la classe mi aiuta già a distinguere in una data popolazione chi è capitalista proprietario, chi è impiegato di ABC oppure chi è dirigente industriale, chi è invece proletario nel senso di essere un operaio subordinato o un'operaia subordinata e così via. Stiamo attenti perché qui bisogna, quando parlo di proprietà dei mezzi di produzione non voglio significare la proprietà di un valore d'uso, mi spiego, essere veramente un capitalista proprietario non significa essere per esempio proprietario del proprio appartamento, perché l'appartamento non è un mezzo di produzione, è un bene di consumo durevole, beh durevole se c'è una buona manutenzione, perché si sa che gli appartamenti, a parte le imposte che li stanno flagellando, l'appartamento va tenuto in buon ordine e costa parecchio, da riscaldamento agli infissi, le finestre, le imposte e così via, le porte e poi la ripittura, anche a fini igienici delle varie stanze. Essere proprietario di un appartamento non significa per niente essere un capitalista, significa semplicemente poter disporre come della propria automobile e così via, poter disporre di un bene di consumo relativamente durevole. Essere proprio capitalisti, proprietari vuol dire avere le proprietà in toto oppure in parte di strumenti, mezzi di produzione che producono valore, plus valore e plus lavoro, in altre parole significa poter avere un reddito non da lavoro diretto, anche se fare il capitalista lo vedremo, è tutt'altro che semplice, non da lavoro materiale e da impegno secondo un certo orario, della persona singola, del lavoratore interessato, ma significa avere il diritto, cioè il diritto di proprietà, il titolo giuridico per lucrare su quelle che sono le risultanze della combinazione ottimale fra terra, lavoro, capitale, di cui parleremo più avanti. E allora noi arriviamo però a un terzo significato del termine classe. Questo è particolarmente vero oggi, questo terzo significato voi non lo troverete, non è possibile trovarlo nei classici o del socialismo o del marxismo o del liberalesimo, vero? Non è possibile trovarlo né in Marx né in Karl Popper, vero? Non è questione di società aperta o società chiusa, di economia pianificata o di economia libera di mercato, no. Questo significato, terzo significato, cioè il significato del termine classe come condizione sociale e pratica di vita, è invece un concetto e un significato che sembra tipico della società moderna in cui stiamo vivendo, cioè di una società non più industriale nel senso della prima rivoluzione industriale, che si può dire durata fino alla seconda guerra mondiale per quanto riguarda l'Occidente. Ma invece questo significato è tipico di una società che oggi qualcuno chiama, io esito a chiamarla in questo termine perché è troppo facile in sostanza, ma chiama già società post-industriale. La mia esitazione è data dal fatto che a mio giudizio l'evoluzione storica delle società è un processo complesso che sarebbe troppo semplice definire ricorrendo a degli avverbi di tempo, pale o pre oppure post e così via, è troppo semplice. Però c'è qualche cosa di vero in questo, le società industriali tecnicamente progredite di oggi. Grosso modo le società del G7 o del G8, alcune più e altre meno, sono ormai delle società che non rientrano più nello schema tradizionale degli economisti e cioè nel settore primario agricoltura e foreste, nel settore secondario manifattura e produzione industriale, nel terzo settore sviluppo del terziario. Ormai siamo nel terziario avanzato. Le società a cui si riferisce il termine classe come condizione sociale sono delle società in cui la demarcazione, cioè la separazione fra i vari gruppi sociali non può più essere descritta in termine di classismo classico, del classismo tradizionale. Ecco, uso classico in questo senso. Non è più possibile dire quello è un capitalista, questo invece è un proletario, quello è un impiegato. No, perché? Perché sono società che attraverso i grandi consumi collegati con la grande produzione, produzione di massa, consumi di massa, stanno realizzando una società di massa, una cultura di massa tendenzialmente egualitaria. In altre parole, la signora classica, borghese, eccetera, quello che abbiamo detto è quella è una signora di classe, appunto, che non lavora, tutto a posto, che spende, io non vorrei sembrare adesso derogatorio, spregiativo, non è la mia intenzione, ma insomma che spende gran parte del suo tempo facendo lo shopping, la spesa, spesa di lusso, una boutique, più che un supermercato, oppure dalla pettinatrice, è vero così, perché ha bisogno di essere, insomma, di una certa restaurazione costante, un processo di cosmesi, vero, che dura poi praticamente tutta la vita, soprattutto dall'età matura in poi. Ecco, questa signora in fondo usa le stesse calze o lo stesso colon, usa gli stessi vestiti della sua cameriera. Non c'è più la differenza di un tempo. Il consumo di massa ha unificato le classi sociali indipendentemente dal reddito. Una volta l'automobile, la famosa balilla a tre marce, negli anni 30, e chi poteva averla? Con grande velocità passava sugli stradoni, vero, polverosi, perché l'intera battuta, ai 90 all'ora, beh, era qualche cosa di straordinario, ma oggi, la Tipo, oggi, la Panda, oggi, la Micro, la Nissan, c'erano tutti. L'automobile non è più uno stato simbolo, è uno strumento di lavoro. Anzi, si noti bene, hanno bisogno dell'automobile, della locomozione propria, soprattutto coloro che sembrano essere socialmente esclusi, che abitano in periferia, perché proprio per venire a lavorare, portarsi sul luogo di lavoro, data l'inefficienza che noi speriamo solo temporanea dei mezzi pubblici, devono avere il loro mezzo, la loro automobile, e se non un automobile, la loro motocicletta, quantomeno il loro motorino, in modo da poter recarsi al luogo di lavoro in tempo preciso. Quindi, produzione di massa, ha voluto dire consumo di massa, cultura di massa, e quindi tendenziale ugualitarismo e sfaldamento delle differenze di classe, che una volta erano molto marcate. Dico questo perché è accaduto, per esempio, che ottimi scrittori, poeti interessanti, provocatori, con cui ho sempre polemizzato in maniera molto garbata, ne cito uno per tutti, Pier Paolo Pasolini, con cui ho avuto, e ne dà conto nei suoi scritti corsari, ho avuto belle polemiche, devo torno a dire gentili, qualche volta dure nella sostanza, ma sempre in maniera tutto sommato, in maniera molto precisa, ma sempre molto rispettosa, polemica rispettosa. Proprio Pasolini riteneva che ormai l'Italia, l'Europa, tutto il mondo capitalistico fossero vittima di quello che lui chiamava la omologazione culturale. Ora, io non voglio dire che Pasolini fosse uno scippatore di idee, come qualcuno ha detto, è certo che qualche volta era talmente rapido nella sua intelligenza che orecchiava, per esempio, questo concetto di omologazione lo prendeva, lo mutuava da un'antropologia culturale che lui poi, conoscendo pur molte cose ottimo poeta, drammaturgo, cineasta, eccetera, però non conosceva. Perché poi? Io più volte gli ho chiesto, come mai? Perché omologazione? Perché io, per esempio, a Rocca di Papa, dove c'era un albergo, forse c'è ancora, sulla piazza principale, con un balcone che dava sulla piazza. Io guardavo un tempo, una volta, guardavo questa piazza e vedevo i ragazzotti che giocavano a calcio balilla oppure al pallone. E potevo dall'alto del balcone, potevo distinguere addirittura i loro mestieri. Ecco, quello è un panettiere, quell'altro fa il meccanico, quello lavora in campagna. Dal modo in cui erano vestiti, adesso no, sono tutti vestiti allo stesso modo, hanno tutta la tuta sportiva. E io gli dicevo, ma caro Pasolino, questo è un progresso, socialmente parlando. Quello che lei esprime è la nostalgia per un mondo ormai passato, per la civiltà contadina perduta. Lei dimentica che la famosa civiltà contadina era una grande esperienza poetica per i poeti come lei, che naturalmente nella loro stanzetta la contemplavano a distanza, non lavoravano nei campi. La civiltà contadina non merita alcuna lacrima, alcuna nostalgia. La maggior parte delle persone, dei contadini che lavoravano nei campi, con le mani, con le braccia, avevano lernia. La maggioranza delle persone avevano una dieta così elementare da sviluppare il gozzo oppure la pellagra. la civiltà contadina sembra una grande civiltà da ricordare con commozione per coloro che non ne facevano parte, per coloro che vivevano dei frutti del lavoro contadino, ma non sapevano che cos'era. In effetti, giorno per giorno, il lavoro contadino. Ora la risposta qual'era? La risposta era ma quello era un mondo in fondo più tranquillo. Ed è vero. Noi abbiamo scelto in maniera forse incauta. Le società odierne stanno scegliendo tutte, non solo la nostra società occidentale, europea o nordamericana, ma le società di tutto il mondo oggi, anche attraverso terribili scotimenti rivoluzionari, lotte di potere e di sangue, stanno in realtà cercando di ottenere un piano, un livello medio di benessere che si avvicini a quello delle società europee, occidentali e nordamericane. In realtà questa nostra civiltà ci dà molte cose. Evidentemente non ci consente più quella tranquillità che un tempo naturalmente conoscevamo, ma che era anche, diciamo pure, la tranquillità corrispondente a una stasi sociale assoluta in cui permanevano, anzi si approfondivano, delle grandi profonde differenze di classe, profonde differenze di reddito, differenze di istruzione, differenze di longevità aspettativa di vita e quindi differenze profondamente ingiuste e come tali neppur sostenibili. Ora noi dobbiamo da questo punto di vista considerare in modo nuovo il concetto di classe, il concetto di classe, nelle società più avanzate, tecnicamente progredite, che chiamiamo anche società di servizi e non più direttamente produttive, nel senso che sono società in cui ormai domina più che la produzione di merce, la produzione di flussi comunicativi, sono società dell'informazione, della comunicazione. Noi dobbiamo ricordare che in queste società ciò che conta, il nuovo criterio di differenziazione non è più la proprietà o la mancata proprietà dei mezzi di produzione, è qualche cosa di più sottile, di legato direttamente agli individui ed è la cultura, la cognizione, la capacità di comprendere un testo scritto e riassumerlo e in qualche modo direi distillarne il significato. La nuova società che ci sta davanti, non è detto che noi già ci siamo arrivati completamente, la società poi che sto descrivendo come società del terziario avanzato, postindustriale, società dell'informazione, è una società incipiente perché noi sappiamo come per esempio ancora in Italia ma anche in altri paesi europei esiste la piaga della disoccupazione, ma soprattutto giovanile, ma questo è un ma fondamentale. Noi abbiamo anche in maniera sempre più marcata un senso di egualitarismo fra gli individui, quale che sia la loro origine familiare o sociale o geografica. La nostra società attuale si fonda sul movimento, sui grandi movimenti migratori ma anche sullo scambio fra le persone ed è una società che ci dà molto ma non è una società così semplice, proprio per sua natura che in fondo noi possiamo incontrare chiunque, non ci sono più i vecchi segnali, una volta l'operaia rispetto alla signora la si vedeva subito, il capitalista andava in giro col cappello a cilindro e allora era sempre in uniforme, non è più così. Noi oggi abbiamo una società in cui vale il criterio fondamentale della concorrenza interindividuale basata sulla competenza. La competenza non conta più il nome che si ha, ciò che si è, conta ciò che si sa fare, non da dove si viene ma dove invece uno riesce ad andare. Da questo punto di vista bisogna riconoscere che le nuove forme di sfruttamento non sono più quelle dell'ottocento o del novecento. Nel secolo ventunesimo il vero sfruttamento classista vale a dire la differenza fra le classi sovrastanti e quelle sottostanti andrà sempre più misurata in termini di conoscenza operativa. Noi in altre parole ci avviciniamo a un'epoca e forse questa sarà la caratteristica del secolo ventunesimo in cui stiamo entrando, un'epoca storica in cui a differenza delle epoche precedenti noi avremo naturalmente ancora fra i vari gruppi, fra i vari individui delle marcate differenze, ma queste differenze avranno più a che fare con gli individui singoli e molto meno invece con i loro nomi e cognomi, con le loro provenienze. In che senso avranno a che fare queste differenze con la conoscenza effettiva, con la cultura di queste persone? E allora qui mi si conceda, terminando questa nostra nona lezione, di spendere una sola parola, sul concetto di cultura. Noi ancora oggi purtroppo viviamo sulla base di un concetto di cultura classico, normativo, ho usato ancora una volta l'aggettivo classico, cioè un concetto di cultura che ha classe, che aveva classe, di ascendenza storica greco-romana che ha fatto il suo tempo. La cultura ha fondamento normativo, la cultura per cui l'uomo, la donna di cultura sono membri di un gruppo minoritario privilegiato che si contrappone alla massa, se non degli analfabeti, degli incolti, alla massa delle persone che non sanno. Questo concetto di cultura è finito. Lo so, è ancora quello a cui noi facciamo riferimento, ma siamo in ritardo. Noi abbiamo bisogno di un profondo rinnovamento del concetto di cultura, cultura come insieme di valori e di esperienze collettivamente condivise e convissute.